Parte la scuola estiva di giurisprudenza, la Summer School che si concluderà l'11 settembre vede iscritti oltre 30 allievi che studieranno gli standard dell'informatica giuridica. Questa è la quarta edizione di questa Summer School che si è svolta a Ravenna proprio perché abbiamo sentito il dovere di riportare presso la facoltà di Ravenna tutto lo sforzo e l'impegno profuso negli anni passati fuori sede, quindi ci sembrava un tributo necessario e doveroso riportare nella giusta sede le competenze e anche i risultati di queste competenze. È ormai una consuetudine che a Ravenna si tengono importanti scuole estive, si va dal cinema, alle scienze ambientali, alla natura del mare, all'inquinamento, insomma quest'anno abbiamo avuto 12 scuole estive, possiamo dire che da tutta Europa e da tutto il mondo sono arrivati circa 500 studenti, dagli Stati Uniti, dal nostro paese, naturalmente dall'Europa che mi pare sia il riferimento per questa scuola estiva. La Summer School oltre a diffondere la conoscenza delle nuove tecnologie nell'ambito della legislazione ha lo scopo di riunire esperti, persone che già lavorano nell'ambito dei parlamenti europei, africani, sudamericani, dell'America del Nord, di riunire tutte queste persone e di diffondere la conoscenza delle migliori tecniche per informatiche, per la legislazione e per gestire i documenti legislativi. Io sono molto contento che questa Summer School si svolga qui a Ravenna, dà una fama e un lustro anche molto importante anche alla nostra facoltà di giurisprudenza, perché anche se non c'è proprio un collegamento diretto, proprio qui con la sede di Ravenna, però di fatto si svolge qui, e di fatto quindi a livello internazionale la nostra giurisprudenza Ravenna ha anche questo sistema formativo che vede la presenza di iscritti da tutte le parti del mondo. Ragazzi, voi da dove venite e perché avete scelto questa Summer School? Io vengo dalla Palestina, dall'Istituto di Legge della Berset University, sono qui per condividere la mia esperienza e imparare dalle altre nello sviluppo dei sistemi informatici applicati all'ambito legislativo. Io spero di poter imparare dall'esperienza italiana per sviluppare il nostro sistema informativo, che sarà poi una pietra miliare per costruire un sistema migliore. Da dove vieni e cosa ti aspetti dalla Summer School? Mi chiamo Sara, sono Executive Director del Servizio Pubblico di Washington negli Stati Uniti. Sono molto contenta di essere qui alla Summer School perché impareremo gli strumenti base per aprire e condividere le informazioni nel processo legislativo, cosa che aiuta a sviluppare l'open government, la trasparenza e l'accessibilità delle strutture governative verso i cittadini. E questo è molto importante, in un'era dove i cittadini sono molto occupati e necessitano di strumenti più facili per mantenere in contatto con i propri organismi governativi. Mi chiamo Davide D'Aprile e vengo da Torino. Sono un assegnista di ricerca presso l'Università del Piemonte Orientale. Ho scelto di frequentare questa Summer School in quanto ritengo che in periodi di crisi come quello attuale sia necessario trovare nuove opportunità di business e queste possano arrivare avvicinando campi che tra loro possono sembrare distanti, quali ad esempio quelli dell'informatica e delle scienze giuridiche, ma che invece prese in sinergia possono poi rivelarsi utili allo scopo. Salve a tutti, io sono Corrado Druetta, sono un giurista laureato all'Università di Torino e l'idea iscrivendosi a questa Summer School era quella di acquisire conoscenze in un ambito di studi in costante evoluzione come quello dell'informatica giuridica, con prospettive inedite per quello che riguarda sia l'ambito professionale che l'ambito accademico. Avendo compiuto studi giuridici ovviamente l'interesse va ai risvolti giuridici dell'informatica, ma gli aspetti tecnici sono tutt'altro che secondari.